Nelle carri primo bilancio dopo questa serie di amichevoli estive? No, il bilancio sulle amichevoli io non lo faccio mai perché penso sempre all'inizio del campionato che è la cosa più importante. Cominciamo a avvicinarci, siamo molto vicini, mancherà 20 giorni, dobbiamo avere l'atteggiamento giusto per affrontare le partite come sempre, ma delle amichevoli non parlo, non mi interessano sinceramente. Mercato tra i giocatori almeno per chiudere la rosa? Mercato tra i giocatori per chiudere la rosa, punto. Ghionna che punto è? Siamo a buon punto, la prossima settimana vediamo di chiudere. Preoccupato? No, assolutamente. Per i continui ritardi del Perugia? No, ma il calcio in questo momento va in questa direzione, anche le squadre di Serie A, guardare la Juventus deve prendere 3-4 giocatori, la fatica c'è dalla Serie A, la Serie B, la Serie C, sono tutte trattative complicate come sempre.